salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del podcast magia oggi siamo finalmente tornati al vero degli ospiti quindi si tranquilli in questa puntata non sentirete la mia voce quasi totalmente infatti presenterò l'ospite a cui lascio quasi subito la parola e magari ci risentiamo solo verso la fine ci tenevo davvero tanto a fare questa puntata insieme a federico rozzi che è un ragazzo molto bravo che appunto fa magia che ho conosciuto tramite instagram infatti lo potete trovare come fedex magic 52 mi lascio ovviamente il tag ma ha anche aperto da pochi mesi un canale youtube con il suo nome reale e vi lascio dove possibile ovviamente anche il link diretto mi invito a recuperare tutti i video che ha fatto perché sono molto interessanti sia del performance che delle riflessioni che veramente valgono la pena di essere ascoltate oggi in maniera molto breve cominciamo a conoscere appunto federico che si presenterà dicendoci anche un po come ha iniziato il perché ha iniziato a fare magia con il suo stile veramente particolare e originale come si approccia solitamente allo studio dandoci anche dei consigli quando possibile anche su come essere creativi e ovviamente originali una delle sue doti che veramente mi ha colpito infatti è quella di poter emozionare il pubblico con delle presentazioni a volte anche un po più pensate rispetto alle classiche che sicuramente rimangono molto di più nella memoria dopo questa presentazione pressoché infinita vi lascio ovviamente a federico che è appunto il protagonista reale di questa puntata a te la parola allora innanzitutto vorrei un sacco ringraziare giulia detta anche alfa magician su youtube e su instagram per avermi invitato a questo meraviglioso podcast appuntamento imperdibile settimanale dove si affrontano temi assolutamente non scontati quindi prima di tutto vi consiglio in prima persona di ascoltarlo perché perché è veramente molto interessante giulia sta facendo veramente un ottimo lavoro detto ciò io direi di presentarmi mi chiamo federico rozzi ho 17 anni e da più o meno 8 anni a questa parte studio l'arte della prestigiazione l'arte della magia ho iniziato quindi quando avevo circa nove anni più o meno e diciamo che quello che mi ha portato poi adesso a fare quello che faccio è una sorta di costante rifornimento tra virgolette di arte fin da piccolo difatti mio papà per chi non lo sapesse è un attore professionista e fin da quando ero piccolo 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 mi ha sempre fatto vedere tantissimi spettacoli mi ha sempre fatto vedere tantissimi show di persone che ha conosciuto che aveva conosciuto a festival in giro per il mondo quindi diciamo che io sono sempre stato molto attratto da queste cose e poi avevo una sorta di pallino da piccolo il pallino di di riuscire a rendere possibili le cose che normalmente nella vita di tutti i giorni non riusciremmo mai a vedere quindi da lì insomma si è scaturito un po il il pensiero magico ho conosciuto la magia e da da allora non mi ha mai mai mollato mi occupo principalmente di cartomagia quindi magia con le carte anche se comunque durante il mio percorso ho sperimentato varie cose ho sperimentato magia con le palline di spugna ho sperimentato magia con i vitali farà ridere molto ad alcuni di voi però effettivamente è così magia con con le monete magia con con i fular con qualsiasi tipo di oggetto perché appunto volevo insomma farmi un'infarinatura generale poi ho scelto le carte perché dal mio personalissimo punto di vista sono un oggetto che ti permette di comunicare molto e non non che gli altri oggetti non ti permettano di comunicare questo assolutamente no però per come sono fatto io per la mia personalità le carte sono sempre state un mezzo molto molto comunicativo quindi quindi ecco diciamo che è una domanda che mi viene fatta molto spesso è quella dello stile di magia no che stile di magia hai che stile di magia ti piace eccetera eccetera io ho una visione sullo stile di magia lo stile di magia deve essere il tuo e fin qua ci siamo tutti però come deve essere il tuo in che modo deve essere il tuo deve essere il tuo perché deve essere parte integrante della tua personalità deve racchiudere tutti i tuoi pregi e tutti i tuoi difetti esempio se te sei maldestro nella vita di tutti i giorni dovresti essere maldestro per logica anche quando performi perché la gente quando ti vede cerca di farsi subito un'idea generale su di te e se poi quest'idea generale che si fa che sia sbagliata o no non viene in qualche modo caratterizzata da quello che performi casca un po' il palco forse non mi sono spiegato tanto bene però diciamo che devi dire la verità alle persone devi far capire che quello che stanno vedendo sei genuinamente te dalla prima all'ultima goccia di quello che dice di quello che fai un'altra domanda invece che mi viene posta e su cui ci ho anche fatto un video su youtube che se volete potete andare a vedere al canale youtube federico rozzi appunto il mio nome e cognome posto video ogni lunedì alle 14 30 quindi se volete farci un salto siete veramente benvenuti la domanda seguente è come approcciarsi appunto allo studio magico e qual è insomma un po il mio pensiero e come avevo detto anche in quel video lì diciamo che il mio studio è caratterizzato da tre fasi principali che sono prima di tutto lo studio ma dovrà sembrare banale ma è così studio assimilazione e performance live performance live è qualcosa che mi ha sempre contraddistinto fin da quando ho iniziato a studiare qualcosa che ho trovato proprio mio che magari molte altre persone faranno già però secondo me è una parte davvero importante iniziamo dal principio però vale a dire lo studio lo studio magico mi serve per dare un'infarinatura generale a quello che sto studiando a quello che sto guardando è come se io nella mia mente dicessi ok ho questo effetto davanti ho questa tecnica davanti vediamo come approcciarsi vediamo come come poterlo in seguito modificare qui subentra anche la seconda fase che è appunto l'assimilazione dove cerco tutti quei punti che alla mia personalità non vanno troppo a genio e quindi li prendo e li modifico li modifico come voglio io li modifico tenendo conto di chi sono e di cosa voglio trasmettere tramite quell'effetto perché ogni effetto è diverso e bisogna saperlo interiorizzare e bisogna saperlo capire per comunicarlo al meglio alle persone qui subentra la terza fase che è appunto alla fase della performance in live difatti quando appena finisco di studiare un effetto non lo non lo pratico troppo a casa sì vabbè farò una provetta o due così ma giusto per per vedere se funziona però il vero studio per me è in mezzo alla gente in mezzo alle persone prendo quell'effetto lì in quest'ultima fase lo porto in mezzo alle persone che non conosco in mezzo al pubblico e lo performo e non me ne frega niente se viene male se non comunico bene perché è proprio lì che si nasconde la chiave per cercare di migliorarsi sempre di più e per capire se sei sufficientemente empatico per capire se quell'effetto ha una buona relazione con il pubblico e tutte queste cose qua che secondo me sono sottovalutate ma fondamentali per la tua crescita d'artista per la tua crescita personale e soprattutto per cercare di comunicare al meglio perché alla fine dal mio punto di vista la magia come qualsiasi altra arte ma questa in particolare è una grandissima forma di comunicazione è una grandissima forma anche in alcuni casi di storytelling quindi è importante per me cercare di dare il massimo nelle performance in live e il miglior modo per farlo è appunto performare, performare, performare in live, sbagliare, sbagliare, sbagliare un aspetto invece della magia che mi sta davvero davvero a cuore è la creatività io non per vantarmi o altro ma mi definisco, mi sono sempre definito fin da piccolo una persona estremamente creativa proprio perché ho sempre cercato di fare tanto con il minimo che avevo con lo zero assoluto e non dico di riuscirci al 110% però almeno provarci quindi secondo me la vera chiave per essere creativi in magia è provarci cercare di uscire dagli schemi, cercare di pensare in un altro modo cercare di pensare come se la magia nel mondo reale esistesse veramente perché secondo me è lì che possono venire le idee migliori pensare come se questa cosa qua esistesse veramente nel mondo reale cosa potremmo fare se la magia esistesse veramente e da lì ti possono venire le idee più disparate volare, scalare grattacieli infiniti senza gravità cioè qualsiasi cosa però prendere quelle idee anche stravaganti anche fuori dal comune e provare a renderle passo passo una realtà reale e costante ultima cosa che mi sento di dire riguardo alle presentazioni in magia come essere insomma un po' come cercare di comunicare emozioni quindi far trasparire le emozioni agli spettatori voglio dire semplicemente una cosa le emozioni prima di farle provare agli spettatori dobbiamo provarle noi se vogliamo far provare agli spettatori una sensazione di tristezza dobbiamo essere tristi se vogliamo far provare agli spettatori una sensazione di felicità di impossibile dobbiamo comunicare felicità e impossibilità con i nostri occhi con le nostre espressioni facciali con il nostro corpo dobbiamo entrare completamente nelle emozioni che vogliamo trasmettere perché solo lì solo a quel punto riusciremo veramente a penetrare nel cuore degli spettatori e a far diventare la magia non semplicemente un effetto un gioco o quel che è ma farla diventare veramente qualcosa di emozionante e di bello da vivere detto questo io spero vivamente che questo mio intervento vi sia piaciuto magari vi sia stato d'aiuto magari no chi lo sa ringrazio ancora una volta Alfa per aver reso possibile tutto ciò io vi saluto e spero di vedervi presto magari su YouTube se volete oppure magari in un'altra puntata del podcast chi lo sa detto questo io vi auguro un buon proseguimento di giornata finisco con di salutarevi anch'io ho ascoltato con molto interesse le parole di Federico e ci tengo veramente a ringraziarlo per essersi prestato a girare questa puntata si è impegnato davvero tanto e ci ha anche dato degli spunti di riflessione veramente interessanti quindi che dire allenatevi nelle presentazioni nella creatività cercate di essere voi stessi in maniera coerente e originale vedete assieme tutto quello che ha detto Federico e ovviamente vi ripeto vi invito a seguirlo su YouTube e i canali social che appunto ha usa molto Instagram dove metterle le foto fantastiche e a parte questo appunto i video che secondo me sono una cosa fondamentale in cui traspare veramente la sua personalità e il suo pensiero ringrazio anche voi per aver ascoltato la puntata ed essere arrivati fino a qui vi invito a farmi sapere ovviamente nei commenti o in privato e anche a Federico cosa ne passate nella puntata siete d'accordo se avete altre idee e fatemi anche sapere se potrebbe interessarvi un'altra puntata appunto insieme a FedEx ora vi lascio andare come al solito buon sabato buona magia ci sentiamo la prossima settimana